Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Q&A Sunday. Buona fine di domenica, buon inizio per la prossima settimana. Prima di partire mi cambio un attimo, cambio fotocamera e vi faccio vedere un'app di cui vi voglio parlare. Prima di iniziare questo video vi rubo solo qualche secondo per invitarvi a fare una cosa. Andate su App Store, scaricate questa applicazione che mi sta aiutando veramente tanto. Si chiama Cambly, la trovate comunque anche linkata in descrizione e io ve ne parlo più avanti nel video. Allora ci siamo, benvenuti. Partiamo con la prima domanda. Ci sono molte domande su iPhone X ovviamente perché ormai è dietro l'angolo e quindi siete tutti molto interessati a risolvervi gli ultimi dubbi. La prima domanda è di Demiro Berardinelli, acquistando sul sito dell'Apple l'iPhone X, si pagano le spese di spedizione oppure sono gratuite? Sono gratuite, non paghi assolutamente nulla, in più ovviamente se il telefono non ti dovesse piacere per tutti gli acquisti online non solo da Apple c'è questo diritto, cioè puoi restituirglielo e anche se non ti dovessi trovare bene glielo restituisci gratis. Cioè le spedizioni, e questo non lo fanno tutti, sono gratuite anche per un eventuale reso, quindi tu pagherai in ogni caso solo il telefono. Ehi Matt, ma secondo te porteranno un nuovo iPhone SE con estetica del 6, 6S, 7, 8 con caratteristiche di iPhone X? Beh, con l'estetica dei vecchi ormai iPhone no, perché alla fine è un design che stanno abbandonando piano piano. E quindi non vedo perché riproporlo, pardon ma la tosse, non vedo perché riproporlo con un device che comunque non è un top di gamma. A quel punto se devono cambiare design all'iPhone SE al massimo lo faranno per riuniformarlo con l'iPhone X. Quindi a quel punto potrebbe aver senso quell'iPhone SEX che abbiamo visto in qualche video fa potrebbe essere una soluzione. Mirko Santoro, Chionei, quale taglio di memoria conviene su iPhone X secondo te? Secondo me dipende un po' da quello che fai, eh, alla fine è questo il discorso. Però 64GB, fidatevi, non sono pochi anche perché c'è il nuovo formato per la registrazione video-foto che comprime veramente tanto e non fa perdere qualità ed è una cosa notevole. Quindi lo spazio, secondo me, 256GB sono tanti, il mio iPhone 8 Plus è da 256GB ma lo avrò riempito per un quarto. Quindi fidatevi che 256GB sono veramente tanti. Secondo me 64GB vanno bene almeno per il 90% della popolazione interessata ad un iPhone. Quindi ti direi prendi l'iPhone nella versione da 64GB perché dovrebbero assolutamente bastarti. Poi ragazzi c'è un trucco semplice, cioè quando fate tante foto, tanti video, il telefono si riempie, potete comunque collegarlo al computer, scaricare un po' di roba e svuotare la memoria. È un qualcosa che ormai non si fa più ma secondo me è un modo molto intelligente per risparmiare spazio oppure rimuovere le app che non si usano. C'è anche la funzione automatica a tal proposito integrata in iOS 11. Zillo 1. Ciao Andrea, sono indecisissimo. iPhone X grigio o argento? So che tu ami telefoni bianchi ma volevo comunque un tuo parere e sapere quale pensi di comprare, se ovviamente lo comprerai. Allora io di sicuro lo proverò però non so ancora che colore proverò. Se dovessi scegliere lo sceglierei nero perché sinceramente nero davanti lo farei nero anche dietro così è tutto bello continuo, ricorderebbe molto l'iPhone 8 o ancora meglio un bel set Jet Black, tutto completamente nero. Il retro bianco non è male secondo me, forse anche più elegante da un certo punto di vista però comunque spezza un po' con il fronte che è nero. Quindi io andrei sullo smartphone Total Black, poi dipende un po' da te però credo che siano entrambi molto carini sinceramente. Vi strappo ancora qualche istante ragazzi per parlarvi di Cambly, l'avete scaricata quando ve l'ho consigliata all'inizio, se non l'avete fatto fatelo ora perché comunque c'è una piccola sorpresa per voi perché ho strappato una promessa allo staff di Cambly e l'hanno mantenuta. Ma intanto cosa è Cambly? È un'app per imparare l'inglese ma non è la solita app per imparare l'inglese, infatti il suo punto di forza sono i tutor disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che vi aiuteranno a migliorare il vostro inglese ma non l'inglese scolastico, quello fatto di tanta grammatica che poi non torna utile o non torna così tanto utile quando andiamo a parlare faccia a faccia con un madrelingua o comunque con una persona che non parla italiano ma l'app ci aiuta proprio ad imparare a parlare meglio l'inglese come grazie a questi tutor che sono disponibili sempre ogni giorno, basterà soltanto avviare una chiamata con loro tramite l'app, verremo assegnate ad un tutor scelto in modo casuale e con lui potremo sia dialogare sia farci correggere determinati errori, potremo anche scegliere di ricevere le correzioni soltanto alla fine durante il corso, insomma è veramente molto completa, ci invia anche un resoconto per i mail di tutto ciò che abbiamo fatto in questa lezione per dire così col tutor per archiviare il tutto e quindi conservare il bagaglio di esperienza che abbiamo guadagnato proprio grazie a Cambly. Quindi ragazzi questa è Cambly, la sorpresa però di cui vi parlavo è che la demo gratuita per tutti voi non sarà da 5 minuti ma sarà da 15 minuti grazie al link per l'iscrizione che trovate qui sotto in descrizione, abbiamo strappato questa promessa a Cambly, l'hanno mantenuta e ci hanno permesso di farvi provare più a lungo il servizio in modo da valutare se fa per voi o meno. Quindi link in descrizione all'app, link in descrizione all'iscrizione per avere i 15 minuti, provatele e poi tornate qui a farmi sapere cosa ne pensate. Wemt, Q&A, ciao Andrea, volevo chiederti se mi faccio prendere l'iPhone X in America anche lì andrebbe preordinato online oppure chi me lo prende può andare in negozio dato che si trova in America? No, il 27 ottobre parlano i preordini per tutti quindi se vai poi in negozio dal 3 novembre in poi lì sì potresti trovarlo ma lo potresti trovare anche in Italia non solo in America però se ti fai prendere l'iPhone da qualcuno che sta o va in America prima del 3 novembre in sostanza in negozio non ci sarà perché le consegne e la vendita in store parte dal 3 novembre quindi se questa persona potrà prendertelo dopo il 3 novembre è probabile che sì, si trovi in negozio altrimenti ci sarà da preordinarlo ma io consiglierei in ogni caso di preordinarlo perché anche in America non è detto che le scorte saranno buone, le scorte saranno limitate un po' per tutti. Siamo arrivati all'ultima domanda che è di Alessio Sacco, ho recentemente notato che gli iPhone 7 e 7 Plus nella versione 256 giga sono scomparsi dal listino Apple, se una persona con questo dispositivo ha un problema tale da doverlo sostituire come procede Apple lo chiedo perché a breve comprerò un 7 con quel taglio di memoria e vorrei sapere cosa fare in situazioni come quelle. Assolutamente nulla, non cambia nulla per te perché comunque Apple in questi casi ha buone scorte di rigenerati che fondamentalmente sono quelli che girano in ambito assistenza quindi se tu hai un domani un problema con il sensore di impronta e spedisci il tuo ad Apple vai in un Apple Store ti danno un altro rigenerato e addirittura un telefono forse più sicuro più controllato rispetto ad uno non rigenerato quindi secondo me addirittura forse ne può valere la pena. Se o quando termineranno proprio le scorte anche dei rigenerati potresti essere fortunato come capitò a me un po' di anni fa avevo da sostituire il mio 3G non c'erano più 3G da 8 giga o da 16 giga non ricordo e ho ricevuto un iPhone 3GS completamente gratis quindi ti può andare solo bene in ogni caso. Bene ragazzi questo nuovo Chionei Sunday finisce qui mi raccomando le domande qui sotto in descrizione per o meglio sotto la descrizione nei commenti per il video della prossima settimana noi ci risentiamo alla prossima. Ciao a tutti da Andrea Cervone